Non lo ferma nessuno, Nicola Porro, cari amici, perché è una furia incontenibile a dritto e rovescio e non le manda assolutamente a dire. Il tema al centro della puntata è stato il reddito di cittadinanza, che di per sé è un argomento che già fa polemica di suo. La stretta varata del governo di fatto ha mandato nel panico tutti coloro che incassano l'assegno, senza preoccuparsi di trovare un'occupazione, quindi un lavoro. E così, nello studio di dritto e rovescio, lo scontro attorno alla riforma varata dalla Meloni, si accende. Si accende e automaticamente fa fuoco, fa scintille, ma nascono scintille subito con Gupitosa che va a difendere in modo duro il reddito di cittadinanza, andando ad affermare, andando a parlare nello specifico e dicendo che i ragazzi spesso sono sottopagati e che dunque, quindi, di conseguenza il problema è nel mercato del lavoro e non nel sussidio voluto dal governo Conte. Porro lo zittisce in un solo minuto e fa, basta con questa storia dei diciottenni sottopagati, afferma così il conduttore di Quarta Repubblica. Poi però arriva l'affondo, perché sennò sarebbe stato troppo poco. Io sono stufo di queste storie. Il diciottenne, in generale, deve capire che noi non gli regaliamo i soldi. Ma non finisce qui, perché Porro è proprio scatenato e così va all'attacco su questo discorso dei diciottenni. Un ragazzo di diciotto anni deve capire che deve farsi un mazzo così per ottenere una retribuzione adeguata e deve anche comprendere il valore del lavoro. Perché, parliamoci chiaro, ci siamo passati tutti, da ragazzi venivamo pagati poco. È una condizione comune. Insomma, con tutto questo caos, Porro rivendica la funzione formativa della gavetta, no? Chi è che non ha fatto la gavetta? Tutti l'abbiamo fatta. Insomma, un concetto che a quanto pare è sconosciuto dalle parti dei Cinque Stelle. E qui ci sarebbe da commentare di brutto, ma lascio questo spazio a voi per questo video e per questa news. È tutto, io vi ringrazio per l'ascolto, noi ci sentiremo alla prossima, sempre qui.